Mi chiedo della battaglia, dello sciopero della fame e della sete che fa Pannella contro il sovraffollamento delle nostre carceri e le condizioni inumane di questi uomini. Pannella è una delle persone che amo di più, lo conosco da tantissimi anni, lei mi sta evocando un amico, anche se non ci vediamo da un sacco di tempo e probabilmente non voterei radicale e lui lo sa benissimo, però le voglio dire che su uno dei miei primi dischi Rimmel c'era una dedica in fondo a una canzone che diceva AM con autonomia e quella cosa era a Marco con autonomia, perché questo affetto e questa stima c'è sempre stato, però già allora rivendicavo un'autonomia, ma non tanto da Marco, ma proprio forse fin da allora dalla politica e comunque niente, sono convinto che Pannella faccia le sue grandi battaglie con un grande senso di giustizia e di amore per il prossimo, in questo senso sono con lui, sono anche preoccupato quando mette il suo corpo in gioco in questo modo così netto, così deciso, spero che stia ben attento a quello che fa, nell'interesse suo e anche nostro. Più ne parliamo, più facile è che la battaglia non rimanga solitaria, questo è anche un piccolo ruolo positivo che può avere l'informazione.